Le barche hanno tanti ricordi, ma sono solo le uniche a ricordare. È per questo che hanno deciso di scappare, perché la memoria è un carico troppo pesante da portare. Qui la Sicilia fa una rincorsa, uno slancio e concentra qua secoli di storia e di storia. Mozzia, Isola Lunga, Santa Maria, Scola, isole non sono. E allora di cosa abbiamo paura noi siciliani? Le barche scappano perché lo sanno. E forse alla fine, vasca dopo vasca, salina dopo salina, siamo diventati di sale anche noi. Allora sarà il tempo per tutti noi da rimorso, per non aver fatto abbastanza. Che più chiedere al tramondo, se non un balzo di scendille sulle onde, la danza di un sasso prima dell'affondo. Ci siamo pietrificati volutamente, nutrendoci di questo sale che impasta acqua e terra. Ci seppelliscono di elogi, quante belle menti, quante intelligenze procaci. Invece siamo sprecati. Perché il nostro odire, fare, parlare, denunciare, organizzare e scrivere, tutta questa nostra inquietudine non genera conseguenze, non ha nulla di concreto. Perché tutto questo nostro impegno è un seme morto, cade in una terra senza rabbia e senza indignazione. È un modo come un altro per metterci sotto sale. Grazie. 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 Grazie.